L'indicazione è che si riprenda il contatto con le famiglie, si riprenda il contatto con i ragazzi, che se no qui si perde il verso delle cose. La Chiesa trovi il modo di tornare tra la gente e che la pandemia diventi un'opportunità. Questo è il messaggio dell'Arcivescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro per la Santa Pasqua. Ciascuno faccia la sua parte, si ragiona che la Chiesa è di tutti e c'hai diritto anche te come c'ho diritto io. Quindi credo che riaprire le porte, che è un'immagine che piace tanto al Papa, è Chiesa in uscita. Cerchiamo di essere davvero una Chiesa in uscita. Oggi Arezzo perde tanti posti di lavoro, la povertà, voi lo vedete dagli occhi della Caritas, cresce sempre di più. C'è qualcuno a cui tirare le orecchie secondo lei oppure no? Beh, direi che c'è una cultura a cui tirare le orecchie. Non sei bravo se nascondi i soldi da un'altra parte e lasci morire la gente perché pur potendo far lavoro non lo fai, non lo produci. C'è chi lavora e chi deve produrlo il lavoro, bisogna fare in modo senza contrapposizioni, senza voler dire niente di più che il Vangelo a tutti quanti. Le celebrazioni si svolgeranno in Duomo non più tardi delle 18 al pomeriggio e alle 10.30 la mattina di Pasqua, non più di 300 i fedeli ammessi in cattedrale. La nostra cattedrale è autorizzata al massimo a mettere dentro intorno a 500 persone. Noi abbiamo sempre usato, anche nel conforto, 300 persone.